È nato sette anni fa, un'intuizione dovuta al fatto che abbiamo Casa Parisi a Segareda, in un incontro con Antonio Barzaghi, abbiamo pensato proprio di creare questo premio che si è poi esteso al fatto che della scuola di reportage, molto importante a cui crediamo, moltissimo e che è cresciuta tantissimo con giornalisti di altissima qualità. Un premio che ha la peculiarità di essere sempre in linea con l'attualità, un reportage sulla povertà, il vincitore di quest'anno. Due premiati, Riccardo Iacona è un premio alla carriera, ma soprattutto al suo reportage di quest'anno dedicato alla povertà. Uno sguardo alla povertà che è considerata una colpa nel nostro paese e il welfare un costo. Un reportage che si svolge tra Napoli, Milano e Roma. Il secondo premio è un'idea della Camera di Commercio che da quest'anno sostiene il premio al Cucinelli, Brunello Cucinelli, tutti sanno che è la grande firma del Made in Italy, su di tutto il mondo, perché sa coniugare armonicamente produzione, impresa e valori umanistici. E la grande novità di quest'anno è proprio il premio dedicato all'impresa umanistica, riconoscimento sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno e riservato alle attività produttive che coniugano economia, profitto e valori umani. Atteso il premio per il reportage dei ragazzi dei licei della provincia di Treviso. Un'esperienza interessantissima anche quella di quest'anno, i ragazzi sono stati un po' travolti, coinvolti al massimo in questa esperienza, che li ha visti protagonisti insieme a grandi figure di giornalisti come Lorenzo Cremonesi, che ha permesso loro di avvicinarsi alla storia non attraverso i libri scolastici, ma attraverso un testimone degli scenari di guerra. Grazie.